salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra ventura qui sui dei zii ci siamo lasciati che siamo all'interno della base e ci siamo lasciati appunto all'interno di questa zombie ok di questa struttura e appunto abbiamo poi sloggiato e allora vediamo un attimo cosa c'è qui continuiamo alla ora del mini sg 5k ma sa che noi non ci abbiamo quindi questo lo lasciamo qua il caricatore k74 questo che è c361 corpi questa che è una maschera anti gas maschera anti gas questa è buona questa direi che è ottima per noi sperando di non doverla mai utilizzare però è un rumore un po strano direi purtroppo sta porta chiusa non è proprio il top cazzo c'è qua via 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 che non alla c'è pure il gas allora è fatta ricordata che parti siamo venuti dannazione facendo zombie non ricordo assolutamente la la zona dovrebbe indicazione perlomeno le piste qualcosa del genere volevo andare dalla parte della della torre di controllo va capendo stanno allora stiamo attenti ovviamente certo cerchiamo di non rimanere troppo in vista è che potrei andarmi a rivedere nuovamente tutte le zone però volevo proseguire un attimo allora le sembrano dei dormitori questa sembrerebbe una qualche cosa e la c'è la torre ok allora andiamo lì dai andiamo lì andiamo lì vediamo un po di che morte moriamo oggi allora dovrei pure bere in verità appena troviamo un posto un attimino più a riparo direi di fermarci a smangiucchiare qualcosa e anche a bere un altro zombie ok ma se un attimo qua se riprendiamo pure un po fiato allora cosa abbiamo da smangiucchiare e le sardine se si aprono con questo apri soppure di pietra è qua ok andiamo a sapere qualcosa erano pure forti cioè c'era veramente poco e niente vediamo pure già che ci siamo questa attenzione non è detto che stiamo necessariamente da soli qui e allora mettiamo già la pistoletta e riandiamo questi sono chiusi attenzione allora vediamo cosa c'è qui all'interno se scarponi d'assalto non sembrano male non si sono danneggiati cambiamoli ok giacca da pattuglia 42 giacca da combattimento questo è intatto usurata ma sarebbe da andare a cambiare un attimo al volo la roba qua cosa fa ci sarà un tasto che passa direttamente uno all'altro sono sicuro che c'è poi la scoprì ok allora granata e li metto e niente di che quante granate insomma potrebbero essere comode ma bisogna pure sapere l'uso e mi avrei detto che se poco poco ovviamente sparano e prendono la granata però non si fa una buona fine ovviamente tanto un po' troppo vulnerabile direi i pantaloni da cacciatore ma c'è ma i pantaloni c'è ma ancora i pantaloni da tuta che è trovata possibile? non avevamo trovato niente di meglio incredibile questa cosa non è proprio il top vista che sto a fare sti cambiamenti in mezzo che mi possono praticamente vede tutti quanti sacche così a caso caricatore c'è pure 17 corpi colpi questo era uno sparo questo era uno sparo cazzo sta sto là col silenzatore per cercare di ammazzare qualche qualche zombie finisce male già lo so cerchiamo se un posto più rialzato era sulla mia destra sto là col silenziatore stiamo stati attenti raga infatti che vabbè il suono potrebbe essere pure abbastanza lontano lontano però non mi sembrava in verità così lontano ecco laggiù ho visto è sembrato fosse un player cazzo sto inclinato a parte che da qua così lontano mi era sembrato che vede qualcuno passare sulla destra però mi sa che è entrato tipo in qualche hangar perché là c'è l'hangar infatti vediamo un po' se riusciamo ad avvicinare vediamo un attimo vediamo come va ragazzi poi è brutto vada come vada non è un problema se se muore se muore il problema è che l'hangar potrebbe uscire anche dall'altro lato non è detto che magari esca da parte dove è entrato e soprattutto non so neanche se sto fucile può essere buono o meno proviamo a salire là sopra che c'è il pezzo con la qui col murietto attenzione però era entrato l'ho visto tipo là ah là c'è uno zombie morto però eh infatti ho visto vaffanculo cazzo cazzo marcia puttana corpo solo mori vaffanculo ma spero che sia morto aspetta sta morendo come pochi scambia cazzo l'ho visto che la coda dell'occhio che stava dietro aspetta 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 chiudi chiudi vaffanculo fanculo a parte che è un pezzo che entri qua dentro infatti non c'entra ok mamma mia raga ho due corpi sono rimasto qua dentro mamma mia non so se il tizio è morto o meno più che altro e devo stare un attimo tranquillo perché c'ho veramente paga vita siamo riusciti a bendacci al volo ma mamma mia 9x19 io non è possibile non c'ho cazzo corpi di sta cosa 9x19 che tra l'altro mi hanno sentito malgrado avessi niente non c'è corpi incredibile malgrado avessi il silenziatore ma quindi pensa che sia mezzo andato 380 380 ce l'è come se ce lo dovrei veggiare ragazzo sta eccoli allora scambia un attimo cioè metti così ok cerchiamo un attimo di sistemarci poi con calma andiamo a vedere cosa aveva ho fatto tutto il giro ho fatto per fortuna non ci ha preso più le tanto siamo riusciti a a scappare è stata una lotta tra 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 newbetti perché insomma tra me e lui non so chi ha sbagliato più a fa le varie mosse il problema è che devo cercare di togliermi dal cavolo sto cavolo dei zombie e di vi dar più che altro pure di morire dove cazzo sta sopravvissuto allora questa è la pistoletta vedi lui aveva il assinenziatore mi sa che quello mio è tutto mezzo rotto perché infatti è danneggiato su è usurato e cambiamolo questi ci riprendiamo però il punto 38 vabbè sti cavoli vediamo un po' che c'aveva vedi la roba giacca cacciatore rovinato rovinato danneggiato l'acqua me la prendo bistecchia buono aspetta che non c'è più roba c'è non c'è più spazio dannazione vedi la roba catroia vedi i corpi che ha trovato aspettate questa ha fatto un basso di tutto praticamente praticamente di tutto però aspetta un attimo posso prendere quello che scusate lui che cosa ha messo nello zaino posso metterlo tipo in mano ok tanto di sicuro è morto non è che viene qua chiudiamo se dentro con che arma vediamo quello che c'ha ok butta per terra mettiamo se qui tranquilli e vediamo un attimino perché qua è un po' un casotto di roba allora sto caricatore mettiamolo un attimo qua stacqua sperando sia buona ce la teniamo qua qui mancherebbe il caricatore 2SG5 che mi sa che lui non c'ha e quello che manca a me sono i corpi per sta cacchio di pistola che sono i 919 i punto 22 357 919 eccoli che so non so questi scatola i 308 bene inutile che mi abbia tutti sti sti proiettili 919 919 919 919 ok questa è un'altra che di SG5 2SG45 no ma servirebbe caricatore la non è male compresse me le prendo tanto sicuramente ragà mi scordo qualcosa a bene pazienza perché insomma pure queste ce le prendiamo sono pillole che mi fanno questo il trattamento del dolore li avevamo treato vediamo sarà un attimo anche se non lo so se ma ci avevamo dolore però nel dubbio magari piano piano mi tira su la la vita più velocemente e si beh i corpi sono un casino sono veramente tanti questo è il K74 kit di puliziarmi questo non è male magari possiamo utilizzarlo come stiamo messi noi questo è danneggiato quindi fama così combina così ciò lo sistemiamo e non lo lasciamo qui intatto ok questa è a posto la pistola dove cacchio è questa no questa è usurata questa che è molto danneggiata via dai lasciamo un attimino qua la colt si perché non si non aveva i caricatori per l'USG 45 servirebbe come pane proprio ste bistecche pure non so male mi sa che il kit lo è brutto e me lo porto dietro nel dubbio meglio portarselo dietro e scatole di colpi scatole di colpi vabbè per il resto ci siamo ci siamo grossomato ci siamo fatemi ricaricare a parte che forse ma devo sempre sta sta cosa dannazione ok no sbagliato devo togliermi questo scambia no combina aspetta ho sbagliato scambia scambia ok ricarica tutto ok e ricombiniamo tutto perfetto che c'è qua no zaino ricevitore gps vabbè lo stesso che c'è ma noi so che il nostro è danneggiato questo è intatto se lo scambiamo e via la luce chimica non ci interessò e direi basta c'è una fracca dei corpi ma veramente tanti io però non c'ho c'è l'anch'io però non ho con che usarli però sta roba l'abbiamo guardata o vediamo un po' che altro c'è vediamo un po' magari guardalo troppo velocemente possibile ci aveva soltanto no ci aveva pure lui il mitraglietta il decol questa che cazzo monto sg45 non ci so ci so caricatore le bende sono disinfettate sono buone pure le nostre però sono disinfettate e fiammifere possono servire il pentolone vabbè i guanti che io non c'ho praticamente niente anche se sono danneggiati però perlomeno prendiamoceli e basta direi ripeto lo so ragazzi che c'avemmo roba soprattutto per quanto riguarda i colpi però voglio sperare che magari non ci va nessuno a trovarli e dopo un po' sparo sparisca insomma vabbè direi che ci possiamo andare insomma possiamo andarcene da qui proseguiamo e comunque ci aveva girato dannazione stava a fare tutta modalità stealth per cercare io di aggirare lui ma è riuscito ad aggirarmi incredibile e l'ho visto veramente a cagola dell'occhio mi sono un attimo girato ho visto qualcosa che si muoveva poi mi ha iniziato a sparare e per fortuna non mi ha preso proprio bene bene e quindi poi sono riuscito a diciamo a rispondere al fuoco se no eravamo veramente messi male e ci avrebbe ammazzato da dietro cazzo è vabbè allora fa la lampa di cacciara cittua cittua no ma se ne decola va per fortuna se no ci avrebbe potuto ammazzare decisamente più facile se si fosse avvicinato meglio dietro le spalle magari un corpetto in testa e via ci ha detto bene dai assolutamente ci ha detto bene allora troviamo un posto un posto dove stare ragazzi e dire che ci possiamo anche salutare aspettavate un po' di azione l'azione è arrivata ci ha detto veramente bene che siamo riusciti a ad uscirne vincitori ora non so se sto andando dalla parte corretta in verità si quella è la torre di controllo quindi direi si allora non vorrei proprio mettermi dentro un cacchio di container però vorrei cercare di trovare un porca troia un posto cosa che mi ha visto scala di corpi vediamo poi se riusciamo a ammazzarla senza grossi rumori ok siamo stati che cazzo scala di fiammiferi colpi sto piattuto ma alla fine siamo stati fortunati venga ripeto siamo stati fortunati casco e scarponi ma questi sono usurati però sto posto non è che mi piace moltissimo perché se non avesse sparato non ce ne saremmo accorti magari ce lo portavamo dietro o lui ci aveva già preso cioè no visto non credo un altro zombie un zombie si camminava un po' troppo sembrava un player c'è scarponi che cazzo c'ha eh si e scarponcini tattici e fate un cazzo grosso sta parte ecco eh caricatori si sarebbe veramente da guardare ogni container ogni cosa anche perché pantaloni di combattimento o una pepsi buona se c'è se si si è magari entrati dove non non passa un bel po' se non passa gente da un po' di tempo ovviamente puoi trovare puoi trovare più roba e insomma non è non è affatto male allora regà io direi che possiamo anche salutare qui non è che questa non è male come come zona così perlomeno quando rientriamo possiamo dare un'occhiata meglio alla situazione maniamo se sta bistecca che il tizio c'ha gentilmente già arrustito è stata un bel po' di nutriente altro non so se erano sporchi o meno i guanti però vabbè direi basta sperando che non ci va a mercire questa e si dovrei mettere un attimo in ordine l'inventario perché abbiamo preso roba un po' sparsa in giro quindi è un po' un casotto e va bene allora ragazzi direi che ci possiamo anche salutare qui ripeto sono cosciente che sicuramente ho lasciato roba che sarebbe stata utile e quant'altro quindi abbiate pazienza non mi sembrava il caso ripeto tutti i corpi che c'era lui che se poi le armi non ce le abbiamo ci portiamo presi inutili anzi di peso forse c'era pure abbastanza non ho controllato se magari la maschera anticassa sua era meglio della mia però va bene pure così insomma ripeto abbiamo preso anche un bel po' di roba e ne sono ne sono contento siamo riusciti a sopravvivere uno scontro a fuoco un po' particolare insomma o lui aveva finito i colpi da pistola oppure stava per switch arma insomma è stato un po' quell'attimo in cui sono riuscito a cambiare con il mitra e sono riuscito ad ammazzarlo buon per lui dai un altro giorno che siamo sopravvissuti io quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento ciao grazie a tutti